Prima di ripartire ricorda di prenotare la donazione, uno slogan semplice ed efficace che invita ad un gesto importante anche in questo periodo di partenze per le vacanze. Quest'estate si respira tanta voglia di uscire, divertirsi e andare al mare e la campagna estiva di Avis si concentra appunto sul tema della ripartenza. Di sangue c'è bisogno ogni giorno, tutto l'anno, e l'Avis di Piacenza, insieme alla responsabile del centro trasfusionale dell'ASL, Maria Teresa Mariano, invitano i donatori ad aiutare a sostenere i malati cronici che ovviamente non vanno in ferie, oltre alle emergenze che possono accadere in qualsiasi momento. Un forte invito quindi a non dimenticarsi di questa necessità in questo periodo di partenze, in modo da non mettere a rischio le scorte durante l'estate. Le donazioni vengono effettuate come sempre in totale sicurezza, con l'uso di mascherine, il mantenimento della distanza e la sanificazione costante. A fronte anche del calo registrato delle donazioni di sangue e di plasma negli ultimi due mesi, i medici incoraggiano a donare, perché ha un gesto piccolo ma che può salvare molte vite.